Giacomo Lazzini arriva alla prima sconfitta del tuo corso qua a Ponzacco al Porta Elisa, al tuo ex stadio alla Lucchese. Cosa non è andato in questa partita qua a Lucca? La prestazione in genere. Abbiamo fatto fatica fin dal primo tempo e quindi oggi è stata veramente una giornata negativa sotto tutti i punti di vista. Abbiamo pagato un pochettino gli sforzi di una squadra che sta giocando praticamente con gli stessi elementi dall'inizio del campionato più la Coppa e poi insomma magari la sconfitta non ci sta perché se non viene fuori quell'errore di Balleri probabilmente non la perdiamo e quindi delle volte bisogna anche sapersi un po' accontentare cosa che non è stata fatta però insomma bisogna subito voltare pagina, pensare che siamo una squadra forte, che succede anche alle grandi squadre di toppare delle partite. Noi abbiamo le difficoltà nel trovare squadre tutte chiuse che ci aspettano e se non riesci a sbloccare la partita più il tempo passa, più ti mette un po' di apprensione, più vai un pochettino in affanno e quindi però insomma dai ripeto c'è da voltare pagina, pensare subito a domenica, riscattarci, a recuperare i tanti infortunati che abbiamo e poi insomma ripartire. Un dato che viene da analizzare i primi tempi che sono già da tre partite da Castelfiorentino dove la squadra non gioca praticamente il primo tempo, poi nella ripresa ha sempre trovato ottime prestazioni, cosa che oggi però non è avvenuta. Dovrai lavorare molto sull'approccio alla partita oppure più un discorso di condizione atletica? No, io credo che sia proprio una questione di testa le altre volte. Oggi forse un pochettino è la prima volta che ho visto la squadra in difficoltà anche fisica e quindi sicuramente bisogna migliorare su questo. Non è superficialità, è che magari partiamo un pochettino più compassati e quindi sperando e avendo la consapevolezza che poi come sono andate tutte le altre partite abbiamo la possibilità di ribaltare i risultati anche nel secondo tempo. Oggi non è stato così perché probabilmente eravamo anche un pochettino a corto di fiato e di gambe e quindi abbiamo pagato queste cose. Sicuramente ci sarà da lavorare e tanto perché ci danno tutti per favoriti come è giusto che sia, però come vedi non ci sono partite facili, tutti ci aspettano e quindi proprio sotto l'aspetto psicologico bisogna trovare quelle motivazioni che fanno sì e che poi non vengano fuori prestazioni di questo tipo. Capitolo recupero infortunati a parte Pagano che doveva scontare l'ultima giornata di squalifica, Tamberi e Bortoletti e Barsotti, le recuperi per domenica oppure c'è sempre da attendere? Ma io ora vediamo martedì, facciamo la conta, speriamo di poter recuperare qualcuno perché per noi sono giocatori importanti quindi è vero che siamo una rosa importante però quando ti mancano cinque pezzi importanti come sono questi ragazzi qua, un pochettino di difficoltà li puoi trovare, quindi mi auguro sicuramente di poter recuperare qualche giocatore. Grazie al mister.